Io sono convinto che se non investiamo nell'evitare gli assembramenti rischiamo di avere l'R con T che inizia ad alzarsi e l'R con T che si alza vuol dire che l'incidenza di contagi riprende quota, noi passiamo a un colore diverso del zona. Più che una previsione è una convinzione quella del governatore Zaia che guarda la curva epidemica di questi giorni con crescente preoccupazione se i ricoveri ospedalieri tra terapie intensive e area non critica hanno raggiunto la cosiddetta fase di plateau con circa 3000 posti letto occupati, l'indice di contagio ha ripreso la sua corsa. 1,20 che era virtuoso, sarebbe stato virtuoso due settimane fa, oggi è tra i più alti a livello nazionale perché di certo che se ci mettiamo poco impegno nel distanziamento sociale è inevitabile che l'R con T si alza, non c'entra niente con gli ospedali, è la diffusione del virus. Insomma il tema resta prepotentemente quello degli assembramenti ancora troppi dice Zaia che allo stesso tempo chiede al governo una campagna di sensibilizzazione impensabile andare avanti a suon di decreti e ordinanze, il rischio è quello di ottenere l'effetto contrario, la ribellione. Se pensiamo di gestire questa partita con DPCM e ordinanze da qui ad aprile perché tale sarà la durata, finirà che si arriverà con lo sfinimento, finirà che ci sarà la reazione uguale e contraria, ci sarà quella non della sua effazione ma sarà quella poi del ribellarsi alla continua restrizione. Secondo me va rinsaldato un patto forte con i cittadini. Sullo sfondo inevitabilmente c'è comunque il DPCM di Natale con la partita ormai emblematica degli impianti di risalita con gli assessorati al turismo delle regioni dell'Arco Alpino, Veneto compreso, che hanno presentato al governo un'ipotesi di mediazione che prevede in sintesi la possibilità di aprire gli impianti di risalita già Natale per gli ospiti degli alberghi e delle seconde case. Per Zaia si tratta del minimo sindacale. Sarebbero i motori al minimo, gli assessori hanno voluto dire guardate che esiste una condizione oltre la quale non si può andare che quella dei motori al minimo. Non è la proposta delle regioni per gli impianti, per gli impianti io vado a portare la proposta che ci dicano cosa vogliono fare con gli assembramenti a 360 gradi, poi capiamo. Altra partita quella della distribuzione dei vaccini anticovida a partire dal siero Pfizer che necessita di particolari condizioni di conservazione. Vi avviso già che abbiamo comprato i frigoriferi, i congelatori, quelli da meno 80 li abbiamo già comprati, noi siamo pronti.